registrazione video full hd a 24 fotogrammi per secondo google pixel 8 pro un formato un po particolare di solito i 24 fotogrammi secondo si riservano a risoluzioni in 4k 8k invece google ha deciso di utilizzare questa risoluzione anche questo numero di fotogrammi anche per il full hd a 30 e 60 fotogrammi per secondo andiamo a effettuare uno zoom 4x 4 e mezzo ottima la stabilizzazione e la qualità dell'immagine andiamo a aumentare ulteriormente lo zoom vediamo fino a che veramente incredibile siamo al 16 per può continuare ad aumentare siamo al 20 per è veramente fantastico la stabilizzazione è ottima ok ma è proprio la qualità dell'immagine stiamo utilizzando il zoom ovviamente è chiaramente un zoom digitale eccezionale registrazione video full hd a 24 fotogrammi per secondo pixel 8 pro eccezionale atteggiungci